Il comune di Castellabate ha inditto un bando per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 37 posti di ormeggio al porto di San Marco. La procedura di evidenza pubblica è finalizzata all'assegnazione dei gravitelli dal 1 giugno al 30 settembre 2020 all'interno degli specchi acque in concessione al comune in regime di concessione del maniale marittima regionale. L'importo a base di gara è di 26 euro al metro quadrato di superficie acque assegnata. Le istanze complete di tutta la documentazione necessaria con l'indicazione del rialzo percentuale sull'importo a base di gara dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 5 marzo al protocollo generale dell'ente. Stiamo procedendo un passo alla volta alla riorganizzazione del porto, una risorsa essenziale per un comune a vocazione marittima e turistica come il nostro, commenta il consigliere delegato al De Manio e al porto Marco Di Biasi. Partiamo in anticipo per organizzare al meglio i servizi in previsione della stagione turistica. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato all'albo pretorio e contattare l'ufficio De Manio, sede Piazza Santa Lucia, Santa Maria di Castellabate o telefonare allo 0974 96 23 11.